Ma signor Salvi ha voluto realizzare questo quadro per donarla alla nostra biblioteca comunale? Perché Carmelo Pardi, nostro illustre concittadino, è stato l'autore della biblioteca e del ginnasio di Partenico. Lui poi ha raccolto tutti i libri che erano stati confiscati ai Cappuccini o al Convento del Carmene e li ha donati alla biblioteca. Ha elencato addirittura io nel libro sulla vita di Carmelo Pardi elenco tutti i volumi che sono stati donati alla nostra biblioteca. Perché questo quadro? Innanzitutto quello che c'è scritto sotto, Carmelo Pardi nato a Partenico 200 anni fa, cioè il 6 aprile ricorre il bicentenario della nascita. Che cosa era Carmelo Pardi? Letterato, religioso dei frati minimi di San Francesco di Paolo, patriota, fu prete liberale nel periodo dell'Unità d'Italia, educatore, fu rettore del collegio Massimo a Palermo, oratore, protagonista della cultura siciliana dell'Ottocento, cioè amico di tutti i grandi letterati, dal San Polo al P3. Uomo semplice, umile, morì cinquantenne, e la sua tomba si trova nel cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo con un bellissimo monumento che dovremmo rivalutare e rivalorizzare. È bene che Partenico studi la sua storia. Io sto presentando con il Mese della Cultura il bicentenario della nascita di Carmelo Pardi, il centenario della morte di un grande carmelitano, padre Daniele Lograsso, che ha lasciato il manoscritto sulla storia di Partenico documentata, documentata con tutte le ricerche che questo grande religioso carmelitano ha fatto. Perciò è giusto. Questo quadro il 28 novembre lo donerò alla biblioteca dopo una conferenza del professore Lino Buscemi, che ringrazio fin da ora, inviterò tutta la cittadinanza, perché la cittadinanza deve rispecchiarsi in queste belle figure, Carmelo Pardi, Gigia Cannizzo, Maria Adamo, la Beata Pinasuriano, la poetessa Bonura, tutti coloro che hanno dato lustro alla nostra città. E nel Mese della Cultura si parlerà di tutte queste grande personalità. Ringrazio Roberto Stabile, sembra un quadro dell'Ottocento, per aver realizzato questo ritratto, copia di un ritratto che si trova alla Biblioteca Nazionale di Palermo. E lo ringrazio anche perché sta preparando il ritratto di padre Daniele Lograsso. Abbiamo uno schizzo a matita, perché per umiltà padre Daniele Lograsso non vuole essere mai fotografato. Ecco allora, in un momento in cui tutti ci lamentiamo per il degrado, per l'abbandono della città, guardiamo questi personaggi, leggiamo gli scritti di Carmelo Pardi per vedere come Partinico, con l'istruzione, con il lavoro, con il buonsenso, con l'educazione, può finalmente rinascere.